Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una focaccia con il 100% di idratazione senza impasto. Vedrete insieme a me che realizzare questa focaccia è davvero semplicissimo, è alla portata di tutti e il risultato è straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera! Per preparare la focaccia senza impasto abbiamo bisogno di farina, io sto utilizzando una farina zero con 12 grammi di proteine e una W pari a 230. Utilizzerò poi acqua fredda, lievito di birra fresco, sale e olio extravergine di oliva. L'idratazione della focaccia sarà al 100%. Per prima cosa sciolvo il lievito di birra in acqua. Il lievito è ben sciolto. E ora versiamo acqua e lievito nella ciotola della farina, tutta in una volta. Aggiungiamo l'olio. E iniziamo ad impastare con un cucchiaio di legno. E ora mettiamo il sale. Impasto energicamente, così con la spatola per un minuto. Un minuto e l'impasto è pronto. Eccolo qui. Liscio e senza grumi. Copriamo la ciotola con la pellicola. E a una temperatura minima di 24 gradi, lasciamo raddoppiare l'impasto di volume. Dopo due ore e mezza, l'impasto ha raddoppiato di volume. Ora noi dobbiamo ungere un foglio di carta da forno con cui ho foderato una placca da forno. Ora ungo anche la spatolina. Prendiamo l'impasto e lo rovesciamo direttamente in teglia. Con la spatola unta distribuiamo la pasta. Vedete, questo impasto non l'abbiamo mai toccato. Impastato per un minuto inizialmente, poi lasciato lievitare e ora messo in teglia. E a questo punto lo lasciamo per dieci minuti. Passati dieci minuti, mettiamo un filo d'olio. Qualche rametto di rosmarino, a piacere. E siamo pronti per il forno. A scelta potrete decidere di mettere qualche chicco di sale grosso. Io inforno la mia focaccia così. Ho preriscaldato il forno in modalità ventilata a 250 gradi e lascerò cuocere la focaccia per 15 minuti. Ecco la focaccia appena sfornata. Ora la lascio schiepilire e poi la tagliamo insieme. Guardate l'interno di questa focaccia. Ha un'alveolatura magnifica e avete visto con quale semplicità si prepara. Grazie a tutti. E' davvero splendida. E guardate anche la base. Vedete? Perfettamente dorata. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia focaccia velocissima ad altissima idratazione sia stata di vostro gradimento. E se così sarà, attendo un vostro like. E come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. A condividere le mie videoricette con i vostri amici. E cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi. Dari da.